Prendele via con una puntata speciale T-Zone, il nuovo programma di approfondimento sportivo per la stagione 2024-2025. Si parte venerdì prossimo alle 20.45 con una puntata speciale in occasione della prima di campionato di Serie A, dove i ragazzi di coach Repecia affronteranno al Palashark l'indomani vice campioni d'Italia della Virtus Segafredo Bologna. Il format condotto da Claudia Parrinello sarà settimanale con uno sguardo prevalente sul calcio professionistico e andrà in onda il lunedì alle 20.45, rigorosamente in diretta. Nella prima puntata in studio ci saranno il presidente della polisportiva Trapani, Valerio Antonini, il CEO delle Vunere, Ruka Baraldi, il coach degli Shark, Jadmin Repecia e l'ex telecronista Rai, Marco Civoli, che insieme al decano dei giornalisti sportivi Italo Cucci si alterneranno in studio da remoto per commentare i principali fatti della giornata calcistica appena trascorsa. Come sempre, T-Zone sarà possibile vederlo fuori dalla Sicilia anche in diretta streaming su telesudweb.it e live sulle pagine social del gruppo Facebook e YouTube Telesud Trapani.